Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre siamo tornati con questo nuovo intervento, video che non poteva assolutamente mancare oggi sul mio canale, ovviamente mi sto riferendo all'esonero di Fabio Liverani. Dunque è arrivato ufficialmente questo esonero, perché già stamani se ne era parlato a livello giornalistico, era stata in qualche modo anticipata questa notizia, poi nel primissimo pomeriggio, poco prima del 2, arriva anche la comunicazione ufficiale da parte del Cagliari Calcio. Dunque Fabio Liverani sollevato dall'incarico di allenatore del Cagliari, squadra che viene per il momento affidata a Roberto Muzzi proprio in vista della preparazione della sfida contro il Cosenza del 26 dicembre. Allora ragazzi, considerazioni velocissime, esonero giustissimo e tardivo, ok? Perché ovviamente su questo canale abbiamo iniziato a parlare di esonero già da Suttirol Cagliari, l'hashtag Liverani Out è arrivato praticamente da Suttirol Cagliari e si è susseguito chiaramente nelle settimane successive, perché è evidente, era evidente a tutti che questo progetto tecnico di Fabio Liverani non era mai iniziato, Fabio Liverani non è riuscito, nonostante il materiale umano a disposizione, a imprimere una chiara filosofia di gioco, non è riuscito a imprimere carattere anche a questa squadra, che man mano, partita dopo partita, con i risultati ovviamente negativi, è diventata una squadra depressa, una squadra che alla prima difficoltà praticamente non riesce a reagire e diventa succube dell'avversario di turno. Insomma, era evidente che appunto questa doveva essere la scelta da prendere, il problema è che è arrivata secondo me tardi da parte di Tommaso Giulini. Chiaramente adesso ci si interroga su chi diventerà il nuovo allenatore e in pole position, ragazzi, lo sapete, c'è Claudio Ranieri, Sir Claudio Ranieri. E lo dico subito, è evidente che questa sia, dal mio punto di vista, la scelta migliore in assoluto. Per quale motivo? Ok, attenzione, c'è il rischio di rovinare il ricordo che noi abbiamo di Claudio Ranieri come allenatore del Cagliari per quello che ha fatto ai tempi con il Cagliari. Perché? Perché sappiamo bene che questa è una società che tende a rovinare quelli che sono stati i personaggi che hanno fatto la storia appunto del Cagliari mettendoli in posizione appunto difficili. E lo sappiamo benissimo a che cosa appunto il sottoscritto si sta riferendo, perché i fatti ovviamente che si sono sosseguiti in questi ultimi anni con bandiere, quali Conti, Agostini e potrei citarne chiaramente anche altri, che ovviamente sono stati messi in posizioni difficoltose da Tommaso Giulini. E quindi è evidente che il pensiero che possa capitare lo stesso con Ranieri ci fa essere molto preoccupati per quello che potrebbe succedere. Ma vado oltre questo e data la situazione io credo che Ranieri sia la persona giusta perché anzitutto è un normalizzatore. È un allenatore in grado di arrivare a stagione in corso in una situazione deprimente come quella che si è venuta a creare nell'ambiente appunto e nello spugliatoio del Cagliari. Uno che magari ti gioca con il classico 4-4-2 e ti mette i giocatori nelle loro posizioni dove possono rendere al massimo, senza esperimenti tattici e quant'altro. Ed è chiaramente una persona che a livello di carisma insomma direi che ne ha da vendere. Una persona veramente che può fare appunto al caso nostro. È evidente che Ranieri non è l'unico nome sul piatto ed è altrettanto evidente che Ranieri può arrivare soltanto se Giulini dà delle garanzie a livello programmatico per un vero progetto magari biennale barra triennale anche in relazione al mercato di riparazione perché è evidente naturalmente che al di là dell'aspetto economico, lo stipendio che percepirà Ranieri c'è anche chiaramente da capire quelle che sono e quelle che saranno le garanzie tecniche di cui giustamente Ranieri insomma dirà ragazzi se vengo voglio appunto determinate garanzie. Quindi ecco la scelta di Ranieri e il fatto che possa arrivare a Ranieri per me è la scelta migliore perché significherebbe proprio questo cioè che Ranieri viene con delle garanzie. Poi bisogna capire se appunto Giulini sarà in grado di mantenere nel caso la parola data. Questo è tutto da vedersi. Gli altri nomi ci sono Iachini, ci sono Ballardini, c'è anche Semplici. Addirittura qualcuno ha tirato fuori il nome di Semplici. Ragazzi io credo che Ranieri sia la persona giusta. È un rischio, è un rischio come ho già detto, ma è un rischio che ci dobbiamo prendere. Nella posizione in cui ci troviamo, per la classifica che abbiamo, per la stagione, per come si sta mettendo dobbiamo assolutamente provare a rimetterla in sesto e secondo me Claudio Ranieri è la persona giusta. Vedremo chiaramente se sarà appunto lui indicato come allenatore del Cagliari, vedremo se ci saranno degli accordi perché insomma era quello che filtra Ranieri a Cagliari e quindi sicuramente si sta parlando con lui. Vediamo ragazzi, vediamo. Da mio punto di vista è sicuramente la scelta migliore. Detto questo non vado oltre ricordando semplicemente che l'esonero di Liberani è assolutamente giusto. Mi dispiace a livello umano quello che è successo appunto all'ex allenatore del Cagliari ma noi dobbiamo chiaramente affidarci al campo e il campo chiaramente ci stava facendo vedere qualcosa che stava diventando per noi davvero insostenibile, davvero insostenibile. Quindi auguro il meglio a Liberani, assolutamente non si augura mai il male a nessuno, assolutamente no però era sicuramente venuto il momento di separarsi. Queste sono le mie considerazioni a riguardo, fatemi sapere le vostre. un bel commento qui sotto, un bel pollice in su, iscrizione al canale e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Sicuramente ci vediamo per la partita di Cagliari-Cosenza e poi ci sarà da fare qualche video proprio sul nuovo allenatore del Cagliari sperando che sia appunto Claudio Ranieri. Un saluto a tutti ragazzi e forza, castello sempre. Ciao ciao. Ciao. Ciao.